Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 25 marzo l'Assemblea ha votato la decadenza da consigliere di Michele Giovine e pensionati e la surroga con la prima esclusa della stessa lista. Il Consiglio regionale ha poi effettuato alcune nomine. La cultura come patrimonio collettivo irrinunciabile, ma anche come occasione di sviluppo economico per il territorio. Questo è il tema di apertura del primo numero 2014 di Notizie, che dà anche spazio a cooperazione, artigianato tessile, scuola, presenza del Piemonte nel mondo e sacre rappresentazioni pasquali. Margherita Ogero, scrittrice. Con la cultura si vive meglio e soprattutto si fa vivere meglio gli altri, perché con un minimo di cultura si evitano tante conseguenze disastrose, come quelle degli estremismi, come quelle dei vandalismi. Cioè tutti i soldi spesi in cultura sono poi soldi risparmiati in altri modi. Sempre in ambito di comunicazione da segnalare il nuovo servizio attivato dal Consiglio regionale, che consente di ascoltare la lettura automatica dei comunicati stampa pubblicati sul sito cr.piemonte.it. L'iniziativa si aggiunge alla versione ad alta visibilità del sito, al Tg settimanale nella lingua italiana dei segni e alla pubblicazione in braille con la descrizione di Palazzo Lascaris proposta ai visitatori. Presentata il Piemonte delle Autonomie, rivista quadrimestrale online di scienze dell'amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Il primo numero è dedicato alla vasta tematica delle riforme del sistema istituzionale all'ordine del giorno del legislatore nazionale Enzo Balboni, Università Cattolica Milano. Il senso di questa iniziativa è proprio quello di rilanciare l'autonomia, sia l'autonomia come concetto di farsi il governo da sé, autoamministrarsi, non dover dipendere dagli altri e ancor più in questi periodi molto difficili rilanciare l'autonomia regionale. Il Consiglio regionale sostiene la Biblioteca Europea Gianni Merlini al Campus Einaudi di Torino, cerimonia di inaugurazione della nuova struttura, il cui patrimonio iniziale consta di oltre 50.000 volumi, il 25 marzo nella ricorrenza dei Trattati di Roma. Gian Maria Iani, rettore dell'Università di Torino. È un momento importante per l'Università di Torino perché nel Campus Einaudi riesce ad aggiungere un'ulteriore parte di biblioteca dedicata ai temi dell'integrazione europea, del federalismo. Il centro di documentazione europea che è collegato alla biblioteca rappresenta per molti soggetti, anche imprese, un luogo di raccolta dei dati necessari per competere in Europa. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze di uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. Se volete raccontare la vostra storia, potete chiamare i numeri 011 0203 800 o 011 5757 403 per fare l'intervista. Una storia personale diventerà patrimonio di tutti. È tutto dal Consiglio regionale. A risentirci! Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte, alla radio.